Ciao, stai ascoltando Pillole di Beat? Io sono Francesco, questo è Pillole di Beat e state ascoltando la serie speciale di Natale 2019. 24 persone che hanno fatto la storia dell'informatica senza le quali il mondo oggi sarebbe profondamente diverso. Una pillola al giorno dal primo al 24 di dicembre. Bill nasce nel 1913 e muore nel 2001. David nasce nel 1913 e muore nel 1996. Frequenteranno insieme l'università di Stanford e si conobbero. Da qui lì l'idea di fondare una azienda insieme. Così nel 1937, per la precisione il primo gennaio, nasce una azienda che produce, tra le altre cose, oscillatori audio. Nel 1937, quindi lo stesso anno, Walt Disney presenta il suo primo lungometraggio animato, Biancaneve e i Sette Nani. E cosa succede quando una azienda come Disney ti commissiona parecchi dispositivi, parecchi oscillatori per produrre nel 1940 un film come Fantasia? Succede che la gente cresce tantissimo. Nel 1957 si quota in borsa e basa la cultura aziendale sul rispetto e la crescita dei suoi lavoratori. Dieci anni dopo, un tale di nome Steve Jobs, che aveva 12 anni, contattò Bill per chiedere alcuni componenti per un oscillatore che stava costruendo. Insomma, come se io a 12 anni, nel 1980, avessi chiamato il presidente di Magneti Marelli per chiedere un componente per un mio progetto. Tra l'altro, neanche con Arduino, perché all'epoca ancora non c'era. Proprio cose dell'altro mondo, direi. Adesso questa azienda è una multinazionale che produce stampanti ed è stata uno dei maggiori produttori di computer, con il record di maggior produttore nel mondo nel 2011. Il nome dell'azienda fu tirato a sorte tra i cognomi dei due fondatori. Per questo si chiama Hewlett Packard e non Packard Hewlett. Tutti la conosciamo confidenzialmente come HP e la riconosciamo attualmente come uno dei produttori di stampanti più grandi del mondo. Ma HP non ha fatto solo stampanti. Tra i suoi prodotti di punta, nei tempi passati, ricordiamo le calcolatrici scientifiche, per esempio, mio padre aveva, o forse ha ancora, una polacca inversa programmabile di HP. HP ha acquisito una moltitudine di aziende nell'ambito tech e ne ha fondate altre, per arrivare ai giorni attuali. È notizia proprio di novembre del 2019 che Xerox, altro produttore enorme di stampanti, volesse acquistare per intero HP. E HP, dal canto suo, ha risposto una cosa del tipo No, grazie, ma vorremmo noi comprare voi. Bill Hewlett, dopo aver fatto fortuna con HP, ha aperto diversi progetti di filantropia. David Packard ha anche fatto carriera politica sotto la presidenza di Nixon. Avete ascoltato Pillole di Beat, la serie speciale di Natale 2019. Questa era la storia di Bill Hewlett e David Packard. Io sono Francesco, per contattarmi o contribuire alla realizzazione del podcast trovate tutte le informazioni sul sito pillole di beat col punto prima dell'it. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per il prossimo personaggio.